insomma arriviamo in un paese che pare piatto e non finiamo di sorprenderci cosa troviamo vicino alla roccia le piste da sci ragazzi le piste da sci non ci posso credere ecco qua questo è un tramonto meraviglioso su questo cana e asso come direbbe un vicentino ed ecco la pista da sci andiamo a vederla di chi che fa da battistrada eccolo la io che mi ammazzo perché non ai freni sta bicicletta però ce la possiamo fare ecco saliamo sul nostro potente mezzo una ragazzina olandese col casco tricolore mi sembra giusto e ecco a destra fantastico pazzesco la pista